carissimi amici eccoci qui in piazza perbiscito gioia del colle nella piazza principale del paese di gioia siamo al martedì 10 gennaio ore 12 e un quarto qualche fiocco di neve comincia a scendere in questa seconda tornata di neve questo è come si presenta questa mattina quest'ora a mezzogiorno la nostra piazza che è protagonista di tante manifestazioni del paese soprattutto durante l'estate la festa di san filippo ecco come si presenta questa mattina i ragazzi che hanno fatto festa a scuola approfittano di questa vacanza per godere della neve e vivere dei momenti particolari qui nei pressi dell'albero di natale che è ancora presente nella piazza con questo video ecco voglio aggiornarvi della situazione questo è l'angolo della piazza garibaldi è questa la famosa facciata del della chiesa di san francesco che adesso dopo dopo l'incameramento del 1861 con l'unità d'italia è diventata caserma invece la chiesa è rimasta e continua il culto gestito dalla confraternita del purgatorio di gioia del colle carissimi amici arrivederci e ad aggiornarci carissimi amici